Ha inaugurato la nuova sede lo scorso sabato la cooperativa sociale Pan Onlus di Castelfranco Emilia che dal 2015 è impegnata nella ricerca di risposte concrete ai bisogni e alle esigenze espressi dalle fasce più deboli della comunità locale attraverso accoglienza e formazione al lavoro. Per l'occasione erano presenti l'arcivescovo Matteo Zuppi e il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Pan Onlus unisce all'impegno sociale anche la tradizione dei ciclo pellegrinaggi, veri e propri viaggi immersi nella preghiera che negli anni hanno avuto come mete il santuario di Europa, Roma e il borgo di Accumoli nel Reatino, gravemente colpito dallo sciame sismico che interessò l'Italia nell'estate del 2016. L'arcivescovo poco prima del taglio del nastro ha voluto sottolineare lo spirito inclusivo della cooperativa sociale. Pan infatti ha detto non è solo l'acronimo di partecipazione, accoglienza e natura ma è anche, traducendolo dal greco, la parola tutto. Monsignor Zuppi riprendendo le parole del presidente di Pan Onlus ha fatto suo lo spirito delle iniziative di impegno sociale della cooperativa che prevedono che ognuno degli ospiti, in base alle proprie capacità, si renda utile nel lavoro per sé e per gli altri.